Visit ticketcompare.com, compare prices, buy tickets, get to the game. Ticketcompare.com, buying tickets made simple. Quando vengono fatte determinate scelte o vengono dette determinate cose, la motivazione per la quale viene fatta una scelta. Secondo me, a questo punto si chiama collaborazione e veduta ecumenica per arrivare a un obiettivo. In questo io ci credo veramente, però devo smettere di giocare perché sennò non riuscirei più a entrare in uno spogliatoio e guardare i miei compagni in faccia. E quello è molto importante. Quindi non è vero che non la fa la formazione. Non ve la dà. Lì la sa. Sei contraddetto. Sono troppi gigi, mi sa. Facciamo la traduzione e proviamo. Assuming that you're going to have a future role after you retire in the Italian national team, what would you change as a manager of Italy? Well, this is a delicate moment in the season. It's a delicate moment for my team and I need energy and concentration. In terms of what I can anticipate for my future after I finish playing, I could imagine I would have a more open, collaborative and perhaps dialectic relationship with the press. Because over the years, I've never let out any secrets. I've always been very loyal and very honest and perhaps often I refrain from being open with the press, never again disclosing any information. I'd imagine I could have a more open relationship in my new role and the suggestion was made that probably gigi is going to be the new gigi riva of the national team, although this would give rise to a plethora of gigis in the environment. Allora, ultime due domande. Enrico Gurro in fondo la Repubblica e poi il collega qui abbiamo chiuso. E in fondo il microfono, un attimo. Per il gigi di qua, di Biagio. Tu hai parlato di un piccolo mondiale, ma insieme al piccolo mondiale c'è anche l'orgoglio probabilmente di quelli che hanno vissuto quello che è successo a novembre e secondo le parole di ieri di Florenzi vogliono prendersi la responsabilità, cioè non scappare dalla responsabilità. Hai visto questo in questi giorni? Ma io... Dobbiamo cercare delle nuove sfide. Penso che questa sia la partita più semplice da preparare per un allenatore. A livello di stimoli, a livello di attenzione, però abbiamo l'obbligo di guardare avanti. E quindi sì, ci soffermiamo alla partita di domani, ma dobbiamo capire quello che è successo. I ragazzi l'hanno capito molto bene. Sono molto responsabili quelli che quella sera c'erano. Anche se sarà difficile, ma noi dovremmo cercare di non parlare più di quello che è successo. Altrimenti non ne usciamo più fuori. Purtroppo anche nella mia vita calcistica ho avuto dei momenti difficili, anche qui in nazionale. Però sono sempre stato abituato a guardare oltre. Altrimenti non si può ricostruire qualcosa di buono. Ed è quello che sto cercando di far capire a loro. Traduzione? Altrimenti non si può ricostruire qualcosa di più piccola, ma uno dei players, Florensi, ha detto che bisogna prendere la responsabilità di quello che è successo in novembre. E l'exclusione del mondo. Allora, come andiamo a prendere il contatto di ciò che è successo? Ciò che abbiamo in fronte di noi è la risposta di i nuovi problemi. Questo è un gioco facile. Ma domani sarà un gioco facile per ogni coach. Ma dobbiamo cercare di capire, dobbiamo cercare di capire cosa è successo con noi. E dobbiamo cercare di parlare di ciò che è successo, ma dovremmo guardare i nuovi problemi. Ultima domanda, la last question. Ciao, sono spagnolo, dunque domanda in itagnolo e poi l'allenatore. Come sono importanti queste partite contro l'Inghilterra, Argentina, Olanda per questa rigenerazione della nazionale italiana e i giovani come Cutrone e Chiesa, come sono importanti per svilupparli per questa rigenerazione? Grazie, spero che abbia capito. Sì, chiarissimo, parli meglio tu di noi. Sono fondamentali queste partite perché ti danno la possibilità di verificare a livello internazionale con grandi squadre alcuni ragazzi, soprattutto quelli giovani, ma anche quelli meno giovani. Perché qui è vero che ci sono dei ragazzi convocati all'ultimo momento che hanno 20 anni, ma è ancora vero che ci sono ragazzi che non hanno una grandissima esperienza internazionale. Quindi ci sarà la possibilità di valutare in maniera importante questi giocatori. What's the importance of these games for the rebirth of the team? And so, for example, players like Cutrone and Chiesa, how important are they in the new national team? They are fundamental and these games are fundamental to test young players and not so young players. There are some players who, despite not being very young, have got very limited or very small international experience and this is a great testing opportunity for them. Ok, solo per ricordarvi che domani la nazionale scenderà in campo con il lutto al braccio, verrà osservato un minuto di raccoglimento e memoria di Davide Stori e gli azzurri indosseranno una maglia dedicata alla memoria di Davide. Sarà tra l'altro la nuova Maglia Way che sarà sia in questa occasione che nella prossima partita dedicata alla memoria di Davide Stori. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie.